Manufatti, sculture, tappeti, dipinti provenienti dall'Italia e da tutto il mondo. Un percorso ricchissimo, quello proposto dall'edizione numero 61 di Cortona Antiquaria che prosegue con successo al Centro Convegni Sant'Agostino. Sta andando abbastanza bene rispetto agli anni passati, manteniamo la posizione. Il 2022 è stato un anno dove abbiamo avuto tante presenze e anche quest'anno confermiamo quelle presenze. È andata direi molto bene, l'afflusso di gente è stato pari se non superiore a quello degli anni passati e soprattutto la qualità delle persone che hanno visitato la mostra è stata elevata e molto alta, per cui soddisfacente direi. Sino al 3 settembre il Borgo della Valdichiana ospita una ventina di antiquari che propongono una scelta di opere varie per stiglie e provenienza. Ci sono cose un po' di tutti i periodi, si va dalle sculture del 400 e del 500, i dipinti un po' di tutte le epoche. dobbiamo incrementare un po' quello che è il settore che oggi chiamano quello del modernariato, del 900. I prezzi vanno dalle poche centinaia di euro sino a decine di migliaia per i lavori più importanti. È chiaro che un oggetto di una certa entità, di un certo prezzo, non può essere venduto nell'immediato. C'è un pensiero e dopo la descrizione dell'oggetto c'è un contatto. Si creano così dei rapporti con i clienti e quindi la vendita può essere anche successiva. Però è passata veramente gente molto interessata alle cose. Tra le opere presenti anche un leggio da coro laccato che fa rivivere le atmosfere della Spagna assai centesca. Vicino a questo leggio c'è tutto un lavoro, tutti i cherubini scolpiti. È centrale, è centrale, come davanti. E certo, è una cosa non di facile arredamento, ci vuole l'ambiente giusto.